Lorenzo Chiesa, buonasera Lorenzo. Buonasera a tutti. Io ho scelto, ho chiesto fortemente a Lorenzo di essere qui perché penso che a parte lui pochi altri al mondo possano descrivere Giulietto nella maniera più vicina, dettagliata almeno. Noi conosciamo tutti il lavoro che ha fatto Giulietto nei suoi scritti, sia libri che articoli, nel suo lavoro da giornalista corrispondente in Russia. Ha avuto anche qualche incarico in Russia se non sbaglio? Incarico ufficiale no. Lo hanno tacciato di essere un agente del KGB. Ovvio, anch'io. Addirittura c'era un ufficio alla CIA direttamente impegnato alla traduzione di tutti i suoi articoli perché loro erano convinti che lui fosse un agente della CIA. Cioè del KGB erano assolutamente certi di tutto ciò. Invece era semplicemente un genio. Ci sono tante cose che conosciamo di Giulietto, anche il suo lavoro diciamo da intellettuale, soprattutto scambiamo il microfono perché con le nostre voci sicuramente è meglio così. Conosciamo molto meno ciò che è avvenuto per farlo diventare quello che abbiamo conosciuto. E tu hai non solo portato, ci hai portato proprio fisicamente alcune testimonianze e mi ha mandato anche delle foto che però purtroppo non riusciremo a proiettare, delle foto di diari da punti e altro materiale che Giulietto raccoglieva negli anni. Se ti va, magari puoi iniziare da farci una piccola descrizione appunto di quello che è stato il percorso di tuo padre da piccolo, da adolescente, fino a poi farlo diventare il giornalista che abbiamo conosciuto. Certo, intanto prima di tutto vorrei iniziare col dire che sì, sono qui per raccontarvi un lato di Giulietto che sicuramente non conoscete. Oltre a questo però, la cosa più importante è che io credo che stia a noi adesso seguire la... Credo che stia a noi adesso seguire la linea di quello che lui ci ha insegnato, ovvero prendere le azioni necessarie e compiere le azioni necessarie affinché si crei un mondo migliore, una società migliore perché era quello alla fine il fine del suo lavoro, creare un mondo migliore. Non era semplicemente informare le persone, perché informare le persone è un mezzo, non è il fine. Il fine ultimo è un mondo migliore, quindi volevo fare questo piccolo preambolo preparandovi a quello che verrà dopo. Però intanto comincerei con raccontarvi della sua infanzia, perché di questo non sa quasi nulla nessuno. Lui è nato ad Aquiterme, il 4 settembre 1940, da una madre insegnante elementare e un padre contadino che addirittura leggeva il giornale con il dito, quindi diciamo avete capito. E cresciuto in queste circostanze ha avuto questa madre appunto insegnante all'elementaria ad Aquiterme che lo ha fatto sempre credere di essere il più intelligente, il più bravo, gli dava tutti i buoni voti. E lui un bel giorno a 13 anni si trovò ad andare a Genova e scontrarsi con la realtà dei fatti, ovvero che non era intelligente come credeva, o almeno questo è quello che mi disse. E a questo punto non sapeva più cosa fare, cioè ha passato la prima adolescenza, mi ha detto nella totale nulla facenza, giocava a dadi, passava le giornate, non sapeva, non riusciva a trovare se stesso, finché un bel giorno ha incontrato un suo amico Beppe che gli introdusse alcuni discorsi, alcune letture, lo introdusse a Freud, a Sigmund Freud, la psicoanalisi, Jung, che poi furono il fondamento di molte delle sue idee, della sua transizione verso una visione più olistica del mondo, che è una transizione di cui vi parlerò dopo, che è venuta durante la mia vita, quindi è una cosa a cui ho potuto assistere. Scusa un secondo, potete disattivare le compressioni dei microfoni, perché c'è un po' di sottrazione direttamente dal mixer, grazie. Eccomi, dove ero rimasto? È stata un'evoluzione spirituale, però quella è la... Sì, sì, a quella arriveremo dopo. Insomma, quello che molti non sanno è che in realtà lui ha vissuto due vite. Questo per me fu una grandissima lezione, perché anch'io a modo mio, anche se sono giovane, ho vissuto due realtà. Sono stato un pianista classico, ho fatto concerti in tutta Europa, poi mi sono trovato a fare dell'altro perché non riuscivo a sostenermi economicamente con questa attività. E lui me lo diceva sempre, non aver paura di cambiare, anche se sei grande, anche se hai dedicato anni della tua vita a un qualcosa, non aver paura di cambiare. Io ho cambiato tutto tre volte. Lui era laureato, quasi laureato in fisica, questo pure probabilmente non lo sapete. Ha studiato fino al penultimo esame e al penultimo esame ha mollato tutto. Perché? Perché c'era un suo compagno di corso, tale Giuseppe Garibaldi, non vi prendo in giro, che praticamente era un genio, cioè gli spiegavano un teorema e lui dopo un secondo riusciva a risolverlo, mentre papà studiava per dieci ore e non lo capiva. Ha capito che non era forse il suo lavoro? No, ha capito che sarebbe stato mediocre e lui non l'avrebbe mai sopportato. Ha capito che sarebbe stato mediocre a fare il fisico e quindi ha detto ha mollato tutto, neanche l'ultimo esame, cioè la mentalità di un genio che non si è neanche voluto prendere il foglio di carta, perché a che serve di fatto? E si è dato alla politica, di botto, all'età di 21 anni, appena penso 22, si è dato dalla fisica alla politica. Ok, e lì c'è la prima parte della sua vita, cioè quella che molti ignorano. Addirittura il giorno che è morto mi ha chiamato una persona, Salvatore Aricò, spero che non l'ho mai più sentito da quel giorno, infatti lo saluto ovunque lui sia, ma mi ha colpito con un discorso veramente scioccante, cioè raccontandomi degli eventi accaduti a Genova quando papà era al partito comunista. Io ne so poco, vi dico la verità, ne so poco, ma quello che mi disse mi lasciò spiazzare. Quell'uomo era stato distrutto dalla morte di me, sembrava più triste di me, era incredibile. Cioè per lui, non so cosa deve aver fatto a Genova in quegli anni fino ai 40, ma di sicuro ha fatto qualcosa di incredibile, non lo so, ha capeggiato le rivolte studentesche. Il 68, cioè lì a Genova l'ha fatto lui, era a capo di tutto. E poi lì c'è stata la seconda volta in cui si è reinventato, cioè passato dalla politica, dall'attività politica al giornalismo, completamente da zero. Però con una cultura e una preparazione tale che Berlinguer stesso, Berlinguer in persona, venne da lui e gli disse guarda io ti mando in Unione Sovietica, ma perché mando te e non mando un altro? Per due motivi. Uno perché tu sei incorruttibile, e io lo so, tanto anche se provassi a corromperti sarebbe inutile. E in secondo luogo perché so che tu dirai la verità e io voglio che tu racconti quella verità. tant'è che lui andò in Russia e raccontò al mondo che cos'era veramente l'Unione Sovietica a quel tempo. Da comunista quale era, ha raccontato tutti i problemi del sistema socialista reale, che erano moltissimi. Non era affatto la società perfetta che i comunisti italiani si immaginavano che fosse. E come veniva raccontata appunto sul mainstream di quei tempi. Tanto fu grave questa cosa che lui fece, che addirittura fu ripudiato dai comunisti italiani. Mi raccontò questa bellissima, una delle più belle storie, diciamo, ce ne sono tante, però quella che mi ha colpito, una che mi ha colpito molto fu quando è tornato per la prima volta in Italia, dopo un periodo, il primo periodo in Russia, e lo stavano aspettando un branco di praticamente comunisti armati di forcone, pronti a distruggerlo in un dibattito e metterlo a terra. Ma lui, ovviamente, si preparò da prima e fece una mossa strategica degna di un campione di scacchi, preparando questo dibattito e mettendo appunto tutti al tappeto, come vi dirò. ha cominciato a parlare, ha fatto tutta la sua spiegazione, ha spiegato i suoi punti, ha spiegato quali erano i problemi del socialismo in quel momento, e hanno cominciato a piovere le critiche. Una domanda, due domande, tre domande, ha fatto parlare tutti, ha lasciato che tutti sfogassero la loro rabbia, con assoluta e stoica calma, dopodiché ha ripreso il suo discorso, rispondendo meticolosamente a tutte le domande, ha detto, allora, tu, compagno X, mi hai fatto questa critica, e tu invece mi hai fatto quest'altra, mi hai fatto quest'altra. Adesso io vi cito, questo discorso che ho fatto io, non sono le mie parole, ma queste sono le parole di Mikhail Gorbachev, capo del Partito Comunista Sovietico. Tutti in silenzio, muti, li ha mutoliti tutti. Perché? Perché nessuno in Italia, fino a quel momento, aveva mai raccontato la verità. Tutti quanti ammantavano la verità, a seconda della dimensione, dello spessore del guinzaglio che portavano il guinzaglio mediatico. E questo fu l'inizio di una carriera di, appunto, verità. Poi il resto, vabbè, lo conoscete. Visto che siamo ancora, diciamo, all'inizio, come è stata la presenza di tuo padre, il supporto di tuo padre nella tua vita, visto quello che abbiamo visto noi? C'era una persona costantemente impegnata, praticamente quasi tutti i giorni in video, scriveva sempre, curava il TG e tante altre cose. È stato un padre impegnato, ma posso dirvi la sincera verità, non so per quale metafisica realtà non ho mai avuto questa percezione che mi mancasse un padre, anzi, tutt'altro. Cioè, seppure la sua età, e io sono nato ai suoi 56 anni, quindi in un'età non indifferente, mi ricordo che ha sempre fatto tutto, è sempre stato un padre... Io direi il padre perfetto, non ho paura di dirlo. Cioè, per me è stato come un amico, un fratello, un confidente e allo stesso tempo ha saputo mantenere la dignità di un padre e capire quale fosse il suo ruolo. Quindi darmi anche a volte delle lezioni dure, ma sempre con affetto e con amore. Quindi, cioè, vabbè, io e lui ci siamo influenzati a vicenda, siamo cresciuti insieme attraverso innumerevoli discussioni sotto le stelle, a tavolo da pranzo, sono infinite. Cioè, ma io appunto era qui che volevo poi arrivare, a quello a cui ho assistito, ovvero in retroscena, di tutto ciò che voi ascoltatori avete sentito. I più acuti di voi avranno percepito questo cambiamento. Ma nel corso della mia vita io l'ho visto, l'ho visto proprio avvenire sotto i miei occhi. Questa transizione, sempre graduale, molto graduale, ma dà una visione molto pragmatica, socialista, retaggio del socialismo e della sua storia. Ecco, tra l'altro anche una madre molto religiosa, molto cattolica e una famiglia che bruciò tutti i suoi libri quando lui disse che voleva darsi alla politica. Quindi un ripudio della religione, di tutto ciò che era la spiritualità, in favore di una visione estremamente pragmatica del mondo. Materialista. Materialista, sì. Però poi piano piano, attraverso alcuni punti critici, alcuni personaggi, alcune discussioni che poi hanno portato uno shift, sia in me che in lui, che è avvenuto gradualmente, ci siamo influenzati a vicenda fino ad arrivare all'ultima parte della sua vita in cui ci sarà molto da dire anche su quella parte, perché è importante. Dici qualcosa, se lo dici così vuol dire che già hai in mente qualcosa da dire. Ah, ma sì, certo. Inutile che ti faccio domande. Allora comincerò, appunto perché questa la trovo una delle parti più interessanti, ovvero la transizione verso una visione più olistica, piano piano. Ma è tutto iniziato quando... Ero piccolo, ancora me lo ricordo. Qualcuno di voi forse ha già sentito nominare Gustavo Roll. C'è qualcuno che alzi la mano se qualcuno... Eh, quindi c'è già qualcuno che sa chi è. Ecco, Gustavo Roll era assolutamente un mistero per mio padre, perché sfidava la sua visione materialista del mondo. Però lui non aveva il coraggio di rifiutare la verità della sua esistenza e di quello che fece, perché aveva un amico molto stretto che era stato a contatto, era stato a casa di Gustavo Roll e aveva assistito agli esperimenti. Per chi non sa chi sia, faccio un breve preambolo, Gustavo Roll è quello che potrebbe essere definito oggi un santo, cioè un uomo che ha scoperto di avere delle potenzialità, di avere una connessione con un livello impercettibile della realtà, a noi impercettibile, ma era in grado di fare alcune cose che alcuni chiamerebbero miracoli, miracolose. Cioè, diciamo, scriveva a distanza, vedeva il futuro, spostava oggetti, cioè nel senso ce ne sono anche su di lui di storie da raccontare. E papà era estremamente affascinato da questo personaggio. Mi ricordo che ne abbiamo parlato per ore e ore e ore e lui non riusciva a raccapezzarsi di come fosse possibile che esistesse una cosa del genere. E questo forse è stato neanche il primo, ma il primo passo veramente importante in quella direzione. I primi passi, secondo me, erano nel suo subconscio. Erano lì, erano i semi che aveva piantato Carl Jung con il subconscio collettivo, quel tipo di discussioni lì, perché, cioè, e lì poi arriveremo alla parte successiva. Però, sì, ecco, è una cosa che è avvenuta progressivamente. Gustavo Roll, Carl Jung e poi Nikola Tesla. Lui era ossessionato di Nikola Tesla, perché mi ricordo che lesse una sua biografia e mi raccontava che Tesla avesse queste intuizioni e vedesse nel dormiveglia o comunque in determinati momenti già un progetto finito. Cioè, lui vedeva proprio i progetti, così come erano, stampati nella sua mente e lui doveva soltanto ricopiarli. Questo, poi mi ricordo un giorno che l'ho mesi assolutamente in crisi, perché gli parlai di, sicuramente qualcuno di voi l'ha letto, José Borges, José Luis, vabbè, La Biblioteca di Babele, un racconto meraviglioso, che parla, vabbè, sicuramente molti di voi lo conoscono, parla di una biblioteca che non ha fine, con esagoni che non finiscono, che contiene tutto ciò che può essere pensato, detto, scritto, tutte le combinazioni di tutte le lettere del nostro alfabeto, in pratica, no? Vista semplicemente. Ed è una biblioteca infinita. Invece io veni a scoprire che un gruppo di matematici e di fisici avevano fatto un esperimento, chiamandolo The Library of Babel, appunto, siete liberi di andarvelo a cercare su internet. Ed è la vera e propria biblioteca di Babele. Però la cosa sconcertante è che non è infinita. No, è molto grande. Grande come, mi pare, 10 alla 5.000. Se non sbaglio, 10 alla 80 è il numero di atomi nell'universo osservabile, così che vi fate un po' un'idea. Però stiamo parlando di un qualcosa che è comunque finito, ok? E la biblioteca di Babele, ovviamente non è in un database, perché non esisterebbe database al mondo che possa contenere questo tipo di informazioni. Però tramite un intelligente algoritmo è stata creata, viene generata. Cioè nel momento in cui si ricerca una determinata frase, cioè si può scrivere quello che si vuole, anche questa discussione che sto facendo io a voi, e la si potrà trovare parola per parola scritta all'interno della biblioteca di Babele, con il numero della pagina, il numero del libro, il numero dello scaffale. E questo va a dimostrare che quello che io sto dicendo a voi adesso, questa discussione che stiamo facendo adesso, che io penso di aver improvvisato e inventato nella mia mente, in realtà già esiste. È parte della natura, ok? E possiamo prenderne uno ancora più semplice. Se prendiamo il pi greco, che è un numero razionale, no? Che ha infiniti decimali dopo la virgola, e non si ripete, quindi non periodico, noi potremmo dire che se trascrivessimo ogni lettera, cioè lo mettessimo in base 26 o in 23, quante sono le lettere dell'alfabeto, e poi potrebbe essere interpretato come una lunghissima fila di parole, e spazio, e virgole. Ed è infinito. Quello è ancora più grande della biblioteca di Babele, è infinito. E lì le cose, i numeri sono già lì, cioè esistono, siamo soltanto noi che dobbiamo andarli a controllare, a vedere. Il che significa che dentro il pi greco c'è tutto l'universo, tutti i libri che siano mai stati scritti, tutti i pensieri che siano e possano mai soltanto essere concepiti da qualsiasi essere umano. Quindi ci rendiamo conto che noi non ci stiamo inventando nulla, noi non possiamo inventarci nulla, è impossibile perché tutto quanto è già previsto dalla natura. La natura è un organismo perfetto, di cui noi siamo soltanto degli atomi. E queste cose, ecco, appunto, hanno cominciato a creare una dissonanza, è stato piantato un seme che si è messo lì, si è infilato per bene, e pian piano ha cominciato a crescere, e a cambiare la sua visione del mondo. Parloci di Pandora TV. Pandora TV è stato il suo, diciamo, il suo progetto più ambizioso, quello a cui ha tenuto di più, secondo me, cioè ci ha messo veramente l'anima, ci ha messo anche tanti soldi. Anche gran parte della salute, probabilmente. Secondo me anche gran parte della salute, sì. Infatti, una cosa su cui lui soffriva molto era proprio questa incapacità, cioè il fatto di dover dipendere da qualcun altro per potersi finanziare. Perché ecco, lì questa forse è pure una grande lezione che ho imparato da lui, ovvero che non bisogna mai troppo trascurare l'aspetto economico. Parlavamo spesso dei problemi, io ho delle posizioni molto radicali, come avrete già forse intuito, e non ho paura di esprimerle, ma noi parlavamo di una serie di problematiche della società contemporanea, tra le quali alcune che stanno più a cuore a me personalmente, non che siano più importanti, ma risuonano semplicemente più con ciò che io trovo interessante. E una di queste è, vabbè, la conquista e la continua mercificazione di ogni cosa, la conquista del reale, del simbolico da parte del capitalismo. tra l'altro, una delle cose da cui lui ha cercato di difendermi di più, cioè lui ha fatto un lavoro per cercare di salvarmi dal diventare formattato a mia volta, spero ci sia riuscito, anche se alla fine un po' tutti lo siamo, secondo me. Ci dobbiamo sempre mettere in dubbio spesso su queste cose, probabilmente. Se siamo qui sicuramente è tanto, ma ricollegati su questa cosa qui a Pandora, sempre perché... Ah sì, scusami, hai ragione, ho divagato su Pandora. Vabbè, che posso dire? Io, purtroppo, non seguivo molto Pandora, anzi, raramente, perché ero in quel periodo in cui lui faceva Pandora, io ero in tournée, facevo concerti, studiavo tantissimo, 8, 9, 10 ore al giorno, e purtroppo non avevo tempo neanche di respirare, neanche di avere una ragazza, neanche di avere una vita sociale, cioè ero lì, sul pianoforte, dalla mattina alla sera. e lui lo apprezzava, però chiaramente mi diceva, ah, sei... tu non sei un cazzo, ovviamente non ti informi, non sai nulla, e mi prendeva in giro giustamente, però ecco, le persone sono diverse ed è giusto che ci accettiamo per quello che siamo, o sbaglio? Quanto è... più che altro è stata abbastanza rispettata, secondo te, la figura di tuo padre dopo la sua scomparsa? Allora, vi dico la verità, io per circa due anni, tre, siamo quasi al quarto, non ho avuto il coraggio né la forza di informarmi di ciò che stavano facendo dopo di lui. Potrei speculare e dire che ho avuto l'impressione che comunque alcune delle persone, non faccio nomi, che lavoravano a suo fianco, abbiano leggermente distorto ciò che lui intendeva e diciamo, si siano appropriati della sua immagine per farsi pubblicità. Questo è quello che penso, ma non ho avuto né interesse né voglia di scavare a fondo in questa questione perché tanto è poco importante, perché chi l'ha conosciuto e chi sa chi era sa già tutto, non c'è bisogno di aggiungere altro. O sbaglio? Non mi fare queste domande scomode. Sono io che faccio le domande e tu rispondi. Facciamo così, dai. Va bene. Tu sai o ti ricordi qual è stato l'ultimo contenuto, l'ultimo pezzo, l'ultimo scritto, l'ultimo video che ha fatto tuo padre? Abbiamo, non so se voi le sentite dal corrente, ma lui addirittura nell'ultimo periodo ha scritto anche un paio di racconti. Uno è stato pubblicato, si trova su internet, ho scritto una piccola prefazione perché me l'hanno chiesta. Si chiama Il migliore dei mondi possibili. Vi consiglio di leggerlo perché comunque è una bellissima metafora del mondo in cui viviamo. Gli ultimi contenuti, diciamo, l'ultimo video che ha registrato, quello che avrete visto tutti, è andato anche abbastanza virale su YouTube. Secondo me, io riguardandolo, ho l'impressione che lui ci stesse salutando, che lui avesse in qualche modo nel profondo di sé, non dico che ne fosse consapevole, ma nel profondo di sé lui aveva intuito che se ne stava per andare. Ci ha lasciato un ultimo messaggio dove ci ha messo in guardia da quello che stava succedendo perché poi ne abbiamo viste delle belle dopo che se ne è andato. Quindi è in quel periodo. Grazie. Se vuoi aggiungere qualcosa, aggiungi, se no ti faccio un'altra domanda io. No, no, vai, prosegui. Tutti sanno, tutti sappiamo che l'argomento probabilmente più presente nelle discussioni, nei contenuti di Giulietto negli ultimi tre anni è stata l'Ucraina. Proprio l'Ucraina, non tanto la Russia, ma il fatto che sarebbe scoppiata una guerra in Ucraina. Sì. Per dire questo vi voglio fare un preambolo. E ti dico una cosa, tanti, compreso me a volte, sinceramente, io a volte a Giulietto gli ho chiesto ma non è che forse esageriamo un po'? Non è che forse stiamo in qualche modo abbiamo questo spauracchio della terza guerra mondiale? Sì, sicuramente l'Ucraina è un posto critico, però magari esageriamo un pochino. Ma sai che, sai quante persone gli hanno detto che faceva la Cassandra eppure alla fine purtroppo direi fino ad ora tutte le sue previsioni si sono realizzate. Tutte. Cioè, non c'è scampo. Però, vabbè, allora, l'Ucraina è un discorso molto delicato. Io non ho intenzione di fare political correctness e vi dico direttamente quello che penso, però poi dopo è importante che io arrivi a quello di cui voglio parlare dopo per spiegarvi che io penso che sia privo di senso un continuare a blaterare a parlare dei problemi perché noi sappiamo già dove sono i problemi. La guerra e la pace non si risolvono né parlandone chiacchierando di pace né mandando tanto più mandando armi quindi non attraverso la violenza ma neanche attraverso l'elucubrazione e le chiacchiere perché sono chiacchiere. Cioè, io vi posso dire quello che penso della situazione in Ucraina ma questo non cambierà nulla non risolverà la situazione in Ucraina invece ci sono delle cose che noi possiamo fare oggi che possono realmente cambiare la situazione quindi però vi dirò visto che me l'avete chiesto quello che ne penso allora io mi ricordo quando è successo il colpo di Stato nel 2014 Euro-Maidan sì poi chiaramente premetto io non sono un esperto di geopolitica quindi non vi aspettate da me discorsi del livello di Giulietto se c'è qualche esperto in geopolitica in Italia probabilmente grazie all'informazione che ha fatto tuo padre quindi comunque non c'è un esperto probabilmente io parlo per veramente quello che ho sentito dire al tavolo da pranzo quindi spero di potervelo riportare nella maggiore fedeltà possibile poi chiaramente non è che io non abbia un filtro critico per cui riesca a capire che una cosa mi sembra plausibile o no vabbè comunque 2014 Euro-Maidan papà era aveva già capito tutto lui quel giorno aveva detto adesso succederà questo guardami ascoltami segnatelo scrivitelo perché adesso succede esattamente quello che ti dico questa manifestazione è stata organizzata è stata creata questo focolaio è stato è un prodotto degli Stati Uniti d'America perché? perché aveva ricevuto dei video aveva guardato e mi ha detto guarda ci sono i cecchini sui tetti che stanno sparando sulla polizia questi sono dei provocatori organizzati questi sono cecchini militari di primo livello che sparano non sui manifestanti sparano sui poliziotti per aizzare la manifestazione non è una cosa normale non succede in una manifestazione qualunque se fosse una cosa qualunque non avrebbero portato i cecchini ok e lì è iniziato tutto poi dopo poco dopo c'è stata la strage di Odessa che adesso se andate a leggere su Wikipedia è stato un incendio un incendio qualsiasi che ah vabbè si sono morte qualche persona forse è morta ma bah cioè questa è come hanno cambiato l'enciclopedia libera ha cambiato la versione sull'enciclopedia libera c'è scritto che tuo padre era uno degli esponenti di teorie complottiste se non sbaglio chiaro teorie complottiste il complottismo è proprio una parola tipo Euro Maidan eccetera eccetera ma io penso che l'abbiano coniata per lui quella parola cioè qualcuno da qualche parte alla Treccani è stato lì ha detto sì cioè l'hanno coniata apposta perché complottista è una parola è una di quelle è una di quelle parole che fa da filtro nel momento in cui tu stai dicendo qualcosa di vero viene stampata l'etichetta complottista in questo modo viene subito disattivato disattivato cioè come fake news adesso ne abbiamo un'altra i fact checker indipendenti hanno decretato che questa news è false bam falso basta e le pecore tutte quante in silenzio giustamente giusto giusto quindi dicevi cosa pensi dell'Ucraina 2014 Euromaidan colpo di stato cioè in Ucraina vabbè lo sa io ci sono stato adesso se ci vado probabilmente mi decapitano però vabbè non ci potrò mai più andare ok conosco storie personali di donne persone che sono state lì hanno visto quello che succedeva cioè nel senso letteralmente sparavano sui bambini perché erano russi cioè stiamo parlando di proprio russofobia non 2.0 5.0 ok e quelli hanno cioè dopo la strage di Odessa i russi che in Crimea sono appunto l'85-90% hanno visto quello che hanno fatto in Donbass in Donbass e hanno detto scusate ma noi torniamo a casa cioè hanno fatto un referendum e poi chiaramente i media occidentali ah Putin il conquistatore si è preso la Crimea annesso sì appunto comunque mi hai fatto riflettere su questa cosa che dicevi del termine complottista perché effettivamente io penso che tuo padre sia stata la prima persona nella mia vita che ho sentito chiamare complottista proprio all'inizio diciamo dell'all'inizio dell'ondata di internet soprattutto della diciamo della di tutta quella fase lì e me le dici due parole su Massimo Mazzucco che sono sicuro tu avrai conosciuto in un modo o nell'altro ma non ne so abbastanza per poter dire due parole quindi mi astengo ok però lo salutiamo sì lo salutiamo ciao Massimo ciao Massimo eccoci vabbè detto questo detto questo ci parlavi del fatto che nella direi che possiamo andare a chiudere in linea di Massimo nel senso andiamo a fare un po' una sintesi poi vediamo se c'è dell'altro andiamo a dire dell'altro ci parlavi di questa fase di transizione diciamo più che altro di cambiamento di punto di vista un po' di tuo padre esatto soprattutto nella fase di vita che ha compreso diciamo ha condiviso con te soprattutto quando sei diventato un po' più grande esattamente parlavi proprio di questa direi transizione da una visione puramente materialista a una visione un po' più aperta anche su altri fronti noi no io direi apertamente olistica poi il fatto che lui non lo abbia esplicitato pubblicamente pubblicamente è un altro discorso ma che ci sia arrivato ci è arrivato è stata difficile è stato un percorso difficile per lui però lo abbiamo fatto insieme quindi lo voglio raccontare ma soprattutto voglio raccontare le conseguenze di questo e per arrivarci vi dico che appunto ero rimasto al fatto che noi discutevamo dei problemi della società di oggi alcuni che mi stanno più a cuore altri meno però a un certo punto io mi sono concentrato su una cosa ma ci sarà una soluzione perché parliamo sempre dei problemi e tutti parlano dei problemi cioè chi è più bravo lui era bravissimo a delinearli a comprenderli ma dove sono le soluzioni perché il modo di vedere il mondo diciamo la consapevolezza che abbiamo oggi ha prodotto il mondo così come è oggi quindi serve una nuova consapevolezza servono dei nuovi strumenti ok e quali sono questi strumenti io ne ho scoperto uno puramente per caso e l'abbiamo scoperto insieme ed è qui che volevo arrivare praticamente nel 2016 in una in un momento di mia grave difficoltà perché mi ero lasciato con una ragazza che amavo molto ero in depressione e ho scoperto casualmente questa tecnica che si chiama meditazione trascendentale forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare e l'ho praticata per un periodo e ho notato dei grandissimi miglioramenti dopodiché sono andato a informarmi sul perché questa tecnica funzionasse così incredibilmente bene e avesse mi avesse fatto ritrovare la pace la serenità dentro di me e allora cominciai a leggere e scoprì che questa tecnica deriva da una conoscenza antichissima la conoscenza vedica che è probabilmente ciò che di più antico ci è pervenuto fino al giorno d'oggi e questo monaco indiano Maharishi Mahesh Yogi nel 1957 ha portato in occidente questa tecnica che appunto deriva da questa consapevolezza che deriva dall'India questa consapevolezza questa scienza che però è stata mal interpretata in termini filosofici etici e razionali quando in realtà è una sistematica tecnologia è una scienza e tecnologia della coscienza per la crescita della coscienza per l'espansione della coscienza e non c'è questo Maharishi Mahesh Yogi prima di diventare monaco era laureato in fisica quindi ha potuto con una visione molto più pragmatica osservare questa osservare questa conoscenza e trasmetterla a noi in un modo che noi occidentali potessimo recepirla e lui ci tenne moltissimo affinché fosse studiata e ci fossero fatte delle ricerche infatti sono stati fatti più di 700 studi in più di 250 istituti indipendenti di più di 33 paesi che hanno dimostrato l'efficacia di questa tecnica per agire sulla coscienza collettiva ed è qui che volevo arrivare è qui quello che papà è riuscito a capire negli ultimi anni della sua vita perché noi eravamo arrivati a parlare di coscienza collettiva perché olistico vuol dire che il tutto è più della somma delle sue parti ed è la verità noi pensiamo e ci illudiamo di essere degli individui singoli e separati ma in realtà lo siamo in qualche in qualche maniera ma in realtà siamo tutti intrinsecamente collegati e questo non lo dico solo io ma lo dice la scienza Albert Einstein è stato il primo uno dei primi ad avere queste intuizioni e a capire che piano piano e se guardate chi di voi ne capisce di fisica e ne sa sicuramente più di me è la meccanica quantistica ci dimostra ad esempio che l'osservatore influenza l'osservazione perché osservatore e osservazione sono un tutt'uno tutti noi e ci sono fior fior di scienziati tra cui il dottor Tony Nader che ha scoperto che di fatto quello che l'antica tradizione nevedica già ci diceva da millenni ovvero che la coscienza non è un prodotto della nostra mente è il contrario è la nostra mente che è un prodotto della coscienza noi siamo coscienza e cioè addirittura la medicina che oggi questo si ricollega un altro dei problemi che a papà stavano molto a cuore l'ipersettorializzazione oggi per esempio il medico non cura più la persona il medico cura la medicina cura il sintomo il medico dell'orecchio sa tutto dell'orecchio ma non vede la totalità dell'uomo ecco questo lui stava molto a cuore e questo è lo stesso problema che si riscontra nella nostra società cioè noi abbiamo una società che soffre ed è malata è come un albero che ha tante foglie che sono ingiallite e noi continuiamo senza sosta ad andare alle singole foglie a curarle cercando di migliorare la situazione quando la situazione non cambierà se un albero è malato un bravo giardiniere vi dirà che bisogna innaffiare la radice con questa tecnica di meditazione trascendentale soprattutto praticata in gruppi e questo è stato dimostrato produce un effetto di pace e calma la coscienza collettiva quindi va a dissipare le tendenze negative e questo anche è stato dimostrato nella guerra in Libano nella guerra cioè in varie guerre e addirittura è stato dimostrato in città come Washington che quando un gruppo sufficientemente grande di persone che praticavano la meditazione trascendentale si riunivano in un unico luogo la criminalità riusciva a scendere fino al 40% vi rendete conto il 40% in una città come Washington nel 1999 c'è una battuta c'è chi ha detto stavano tutti meditando solo per quello però è una battuta hanno fatto anche a Chicago questo esperimento ma in realtà la cosa bella è che visto che questo si basa sempre sulla fisica ovvero sul funzionamento delle onde voi sapete che se due altoparlanti vengono messi l'uno a fianco all'altro il suono prodotto non sarà il doppio ma sarà il quadruplo cioè è quadratica è esponenziale la crescita ed è la stessa cosa con i gruppi di coerenza di questa tecnica di meditazione trascendentale ovvero più persone ci sono e più l'effetto è espanso ed è stato dimostrato si chiama effetto marisci se vi ripeto come mio padre faceva vi dico anch'io se non mi credete andatevi a documentare perché è tutto lì quando si tratta di cioè allora basta l'uno per cento della popolazione e l'intero gruppo quindi possiamo parlare di una città di un paese di una nazione o addirittura di tutto il mondo ne va a trarre i benefici basta l'uno per cento di meditanti che pratichino regolarmente nelle loro case senza neanche riunirsi in gruppi questa tecnica e come è stato fatto in America su undici città di controllo in un gruppo di undici città undici che non avevano l'uno per cento e undici che avevano raggiunto l'uno per cento in una si è vista la crescita della criminalità nell'altra un declino radicale ok quindi e perché perché questo succede bisogna capire perché queste cose succedono bisogna indagare perché in realtà il problema che è alla base delle guerre e dei conflitti è lo stress sociale cronico che capirete voi da soli no per una foresta verde la foresta deve essere fatta di alberi verdi quindi ogni albero verde è una cosa che contribuisce alla foresta verde ok però lo stress agisce sul nostro sistema nervoso in maniera molto particolare ovvero voi saprete che la corteccia prefrontale la parte frontale del cervello è quella adibita ai ragionamenti complessi mentre la parte occipitale la parte posteriore e l'amigdala sono il centro della paura e degli istinti noi abbiamo un meccanismo intrinseco nel nostro corpo che si chiama il meccanismo fight or flight di lotta o fuga che in caso di di pericolo ci distacca cioè ci stacca il flusso sanguigno letteralmente alla parte prefrontale e la parte frontale e manda tutto il sangue iperstimola l'amigdala e manda il sangue alla parte istintiva per permetterci giustamente di compiere azioni repentine istintive senza perdere tempo in ragionamenti ultra performanti esatto però quello che succede è che questo meccanismo diventa cronico nella nostra società odierna noi siamo iperstimolati da una serie di fattori e quindi questo stress diventa cronico lo si vede benissimo per esempio nei pazienti di sindrome post-traumatica da stress che hanno l'amigdala cronicamente iperstimolata e non riescono cioè hanno incubi vedono hanno paura di tutto vedono minacce da tutte le parti perché sono estremamente traumatizzati da ciò che hanno vissuto e per esempio questa tecnica è stata l'unica cosa che si è visto che realmente ha portato un beneficio soltanto due settimane di pratica nei veterani di guerra del Vietnam ad esempio perché che cosa succede durante questa la pratica della meditazione trascendentale l'opposto letteralmente speculare cioè la corteccia prefrontale viene stimolata e viene erorata di sangue mentre la parte posteriore si quieta e quindi si crea coerenza e tutto il cervello comunica efficacemente come una diciamo un'azienda in cui tutti i reparti comunicano efficacemente l'uno con l'altro e quindi c'è il massimo flusso è la massima e quel campo in cui noi ci immergiamo perché il campo di coscienza è lo sperimentare del campo di coscienza che ci costituisce tutti la sorgente di ogni pensiero quando ci immergiamo lì quello è un campo di pace è un campo di beatitudine quindi quello che volevo dire è basta con le chiacchiere sulla pace se le persone parlano di pace non si raggiungerà la pace bisogna dargli l'esperienza della pace e qui abbiamo le tecnologie per farlo ci sono sono a portata di mano è questo il punto il punto chiave perché noi alla fine dei conti ci comportiamo in base al nostro livello di consapevolezza se noi siamo arrabbiati non importa quanto sappiamo che la violenza non sia la soluzione ma se noi siamo arrabbiati in quel momento saremo violenti perché è il nostro cervello andiamo in giro le persone vanno in giro con letteralmente lesioni funzionali del cervello parti del cervello che non ricevono sangue non è colpa loro non possiamo prendercela con loro allora papà è stato portato da me io lo convinzi gli ho detto papà guarda che questa cosa vale la pena di essere sperimentata è una cosa veramente è una cosa veramente valida perché l'avevo l'avevo provata su di me e poi quando gli ho fatto leggere dell'effetto marisce di tutta questa serie di studi lui si è convinto è venuto con me e ha fatto questa esperienza noi per un periodo abbiamo meditato insieme e vi assicuro che questa cosa per lui è stato proprio secondo me il culmine di quel discorso di cui vi parlavo prima della visione olistica cioè lui ha sperimentato su di sé che queste cose sono reali non sono fittizie non sono diciamo senti ma l'hai portato dove? in qualche gruppo di meditazione? l'ho portato no a fare un corso perché questa è una tecnica che si impara ma un corso con un insegnante o in gruppo? assolutamente in gruppo questa è una tecnica che può essere imparata perché ti voglio fare una domanda su questo abbiamo qui un insegnante di meditazione trascendentale tra l'altro un amico Massimiliano in gruppo l'hai portato da un insegnante? no 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 allora quando si impara questa tecnica si va da un insegnante e si fa un corso singolarmente in cui viene impartita uno a uno proprio uno a uno certo assolutamente deve essere un insegnante certificato senti però voglio sapere è molto semplice che faccia ha fatto l'insegnante quando si è trovato davanti tuo padre a lei sapeva chi era mio padre la mia insegnante è stata entusiasta e mi ha detto mi ha detto che è stata una delle esperienze più belle della sua vita insegnare a mio padre ma non ha mai voluto dirmi nel dettaglio che cosa successe quel giorno però secondo me un uomo come lui doveva avere una spiritualità già sviluppata in qualche modo latente latente sì ma era lì già non so come dire lui aveva una calma una stoicità una sopportazione dello stress che fanno pensare a non lo so una saggezza antica un qualcosa che viene mi azzarderei a dire da vite precedenti non so poi qui non voglio entrare troppo se fosse così speriamo di rincontrarlo assolutamente grazie grazie intanto grazie a voi grazie a voi c'è una citazione che vi voglio leggere perché che esemplifica perfettamente lascio a voi la riflessione riguardo queste parole la 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 pregnante verità che c'è sotto e non lo so a me hanno commosso e per questo e questo è il motivo per cui sono qui e sono venuto qui a parlarvi di queste cose che mi stanno molto a cuore quando si è capito o si crede di aver capito che è la stessa cosa qualche cosa di importante non lo si può tacere perché tacendo si perde il significato dell'esistenza cioè si muore spiritualmente anche se fisicamente si può sopravvivere al fondo di tutto c'è il legame con gli altri anche se lo abbiamo dimenticato e sepolto sotto la vernice dell'individualismo più ottuso e quando dico gli altri ci metto tutto l'ecosistema di cui siamo parte gli animali le piante l'aria che respiriamo in fondo potrebbe esserci una risposta davvero generale noi siamo parte di un immenso organismo vivente che ci comunica che se produciamo bene egli starà bene il che significa che anche noi staremo bene vivi o morti poco importa Giulietto Chiesa grazie a tutti Grazie a tutti